Buon pomeriggio a tutti, grazie ovviamente al Ministro Tajani, grazie Antonio, grazie all'Ambasciatore Segui, grazie per avermi invitato, per aver promosso questo importante momento di riflessione sulle prospettive della politica estera italiana. Mi offre ovviamente l'occasione di sviluppare con voi un po' del lavoro che abbiamo cominciato a fare in queste settimane, ma mi offre anche, soprattutto e prima di tutto, l'occasione di ringraziarvi per il lavoro silenzioso, fondamentale, strategico che portate avanti ogni giorno nell'interesse della nazione. Voi siete bandiere dell'Italia, bandiere nel senso di essere portatori di un'identità che è sempre la base per qualsiasi possibile dialogo. Non si può parlare con gli altri se non si è consapevoli di ciò di cui si è portatori. Questo chi svolge il compito che svolgono gli ambasciatori lo capisce molto bene. Io vi confesso che mi sono spesso interrogata su come fosse difficile in fondo la vita di un ambasciatore, perché insomma è di un diplomatico di essere sempre sradicati dal proprio contesto, ricominciare sempre da capo, vivere sempre una vita nuova, come se fosse sempre sospesa, come se non si potessero mai mettere delle radici con tutto quello che questo può comportare, anche in termini ovviamente di rapporti familiari, di legami, di vita. E come si fa a tenere quelle radici quando sembra di non poterle fissare mai? Si fa solamente se uno le radici ce l'ha dentro di sé, se porta con sé le proprie radici. È difficile però. È un lavoro che per quanto possa essere remunerato, immagino io che nel mio piccolo faccio un lavoro che mi porta spesso a dover sacrificare la mia vita personale. Per quanto possa essere remunerato non c'è un prezzo per questo. Allora chiaramente è una missione e così deve sapersi interpretare e per questo e così deve essere anche adeguatamente riconosciuta. Fosse anche con semplice grazie che io voglio darvi ovviamente a nome di tutta la nazione, a nome di tutti gli italiani per i quali voi fate questi sacrifici e che riuscite a rappresentare così adeguatamente. Bandiere e ponti. Bandiere di un'identità, ponti per costruire il dialogo con altre identità, con altri mondi, con altre realtà e con quei ponti, attraverso quei ponti far camminare delle opportunità per la nostra nazione. questo è un lavoro estremamente prezioso. Ovviamente io lo capisco ancora di più oggi per la verità sono tra quelli che insomma ha sempre avuto questa percezione, mettiamola così, ma lo capisco ancora di più oggi in questa nuova veste perché nei molti incontri internazionali che io ho avuto moltissimi in queste settimane mi sono resa ancora più conto di quanto interesse, di quanta richiesta, di quanta voglia e disponibilità verso l'Italia ci sia in giro per il mondo. Lo diceva correttamente il Ministro Tagliani e credo che ovviamente questo sia per buona parte il prodotto del nostro portato, il prodotto della nostra cultura, la cui influenza è sempre stata globale per la sua grandezza, per la sua unicità, per i tanti ambiti nei quali la nostra cultura riesce a districarsi, mostrarsi, svilupparsi, arte, cultura, lavoro, eccellenza, sapere. Sicuramente questo è il nostro portato, è un portato fondamentale, una cultura complessa e profonda che passa anche dalla nostra lingua, perdonatemi per questa digressione, perché la lingua è uno straordinario, diciamo diplomatico per la nostra cultura e invece mi accorgo di come noi tutti, tutti, a partire da chi ha incarichi di responsabilità, a partire dalla sottoscritta che si considera una grande patriota, alla fine veniamo travolti dall'uso di queste parole straniere, i francesismi, gli inglesismi, quando se ci pensate bene, per ciascuna di questa parola che noi utilizziamo riprendendola da una lingua straniera, nel corrispettivo italiano esisterebbero probabilmente almeno 4-5 parole diverse, perché la nostra è una lingua molto più complessa, è una lingua molto più carica di sfumature di quello che spesso si trova al di fuori di questi confini. Allora, utilizzare per noi il più possibile l'italiano, questo lo faccio come richiamo a me stessa, prima ancora che a tutti gli altri, utilizzare il più possibile la lingua italiana non solo vuol dire ovviamente valorizzare, difendere un elemento fondamentale della nostra cultura, ma significa anche difendere la profondità della nostra cultura, la nostra capacità di guardare il mondo da sempre attraverso una lente che ha sfumature molto più colorate di quelle che spesso vediamo al di fuori dei confini nazionali. È il portato della nostra cultura, è sicuramente quello che fa la nostra grandezza, è stata la chiave di volta del nostro ruolo, però noi non dobbiamo oggi essere così ingenui da pensare di poter vivere di rendita, perché intorno a noi tutto sta cambiando, tutto corre con una velocità estrema, la competizione globale anche sul piano culturale è diventata una competizione molto accesa e noi dobbiamo saperlo e dobbiamo essere pronti, mettendoci nella condizione di essere sempre all'altezza di quelle mutazioni, per esempio con tutta la grande questione dell'innovazione tecnologica, perché la tecnologia, la modernità sono uno strumento e devono essere uno strumento che utilizziamo, che mettiamo a nostra disposizione per fare quello che vogliamo fare piuttosto che rischiare, come spesso pure è accaduto, di ritrovarci schiacciati da quello che la modernità produceva. E quindi sicuramente dobbiamo saper essere all'altezza, dobbiamo essere all'altezza di potenziare le sinergie tra la nostra diplomazia pubblica e culturale e la nostra azione complessiva di politica estera. Avete visto quanto complessivamente io e tutto il Governo in questa prima fase ci siamo spesi da questo punto di vista. Io credo in due mesi ormai che siamo al Governo, credo di aver incontrato o comunque avuto contatti con almeno 40 tra capi di Stato o di Governo, ho partecipato alla COP27, al G20, al G7, al Consiglio europeo, al vertice dei Balcani occidentali, all'ASEAN. Purtroppo non sono riuscito ad andare per una questione fisica, proprio fisica, nel senso che il mio fisico ha reagito male al vertice euro-mediterraneo, cheppure era molto importante e poi moltissimi incontri bilaterali. Avete visto che abbiamo voluto che il nostro primo viaggio istituzionale fosse a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee e poi a questo è seguito un incontro con il segretario generale della NATO Stoltenberg qui a Roma e l'incontro con il segretario generale dell'ONU a margine del COP27 a Sharm el-Sheikh. Quindi ovviamente i capisaldi di quella che è la politica estera italiana, nei quali ovviamente l'Italia intende giocare, come correttamente ricordava il Ministro Tagliani, ma anche l'Ambasciatore segue un ruolo da protagonista. E ovviamente il Ministero degli Esteri non è da meno nelle tante iniziative che ha portato avanti in queste settimane, così come il Ministero della Difesa, così come il Ministro degli Affari Europei e anche gli altri Ministri che per loro parte ovviamente negli incontri bilaterali sulle tematiche di competenza molto si sono spesi nella dimensione internazionale. Ovviamente non è un lavoro facile, è un lavoro che richiede moltissimo tempo. Delle volte alcuni di noi possono avere l'impressione che è tempo che stanno togliendo la politica nazionale e non è così. È come in realtà ottimizzare il lavoro che si fa a livello nazionale? E come comprendere le innamiche che intorno a noi stanno mutando? Perché, signori, e voi questo lo sapete meglio di me, intorno a noi il mondo sta cambiando. Tutto sta cambiando. Cose che noi davamo per certe, consapevolezze che ritenevamo fossero così, insomma, ormai note, non sono più tali. E cose che sono state raccontate in un modo si sono rivelate in un altro. Guardiamoci intorno. La globalizzazione, per esempio. Noi eravamo convinti che con il libero commercio globale avremmo ottenuto automaticamente, diciamo così, una migliore distribuzione della ricchezza e che sistemi meno democratici del nostro piano piano si sarebbero avvicinati di più ai nostri, si sarebbero democratizzati. È accaduto l'esatto contrario. La ricchezza si è concentrata verso l'alto. Regimi o sistemi autocratici si sono rafforzati, sono involuti, rafforzandosi con quel libero commercio. E chi per paradosso si è indebolito? Siamo stati noi, che abbiamo finito per non controllare più buona parte delle nostre catene del valore e quindi anche la nostra capacità di essere padroni dei nostri destini e delle nostre scelte. Sono realtà con le quali bisogna fare i conti. Oggi la pace in Europa non è più scontata, la nostra libertà non è più scontata. Basta arrivare poco lontano da qui per vederlo. Siamo in Europa, non siamo in un posto così distante. E niente di tutto quello che noi davamo per scontato oggi esiste, se noi non abbiamo la consapevolezza di doverlo difendere. L'ordine internazionale dal quale eravamo abituati non è più scontato, perché chi conosce la geopolitica un po' più di certi dibattiti che a volte sento sa benissimo e capisce benissimo come nel conflitto in Ucraina. Dietro il conflitto ucraino si sceglie in realtà un conflitto che ha dimensioni molto più ampie e che non coinvolge solamente l'Ucraina e la Russia, come piace ad alcuni vedere e come purtroppo non è. E se anche coinvolgesse solamente l'Ucraina rimarrei in ogni caso dell'idea che l'Italia ha fatto quello che doveva fare e continuerà a fare quello che deve fare. Allora noi ci troviamo di fronte a sfide enormi e di fronte a quelle sfide è ovviamente necessario utilizzare al meglio tutte le nostre risorse, anche superando se vogliamo gli steccati tra i vari strumenti della nostra politica estera, la diplomazia da una parte, la difesa e la sicurezza dall'altra. Bisogna rendere totale e migliore questa sinergia perché noi siamo di fronte a una missione che è quella di difendere il sistema che abbiamo creato sulle macerie dei conflitti della seconda guerra mondiale. Difendere si direbbe semplificando diciamo il mondo libero ed è una missione banalmente perché non c'è crescita e non c'è sviluppo dove non ci sono anche sicurezza e libertà e questo noi lo sappiamo molto bene. Però dobbiamo allo stesso tempo rifiutare il rischio che l'attuale contesto si risolva nel semplice racconto dell'Occidente contro il resto del mondo e in questo ovviamente la diplomazia è fondamentale. Le semplificazioni da che mondo è mondo non rendono la complessità delle sfide in atto e di certo non favoriscono i nostri interessi. Certo l'Occidente è ovviamente il nostro campo da gioco. Questo a me imbarazza perfino ripeterlo. Vi dico che mi fa sorridere quando sento qualche osservatore che dice ma l'Italia starà con l'Occidente. Signori se fosse l'Italia ci sarebbe l'Occidente vorrei semplificare senza l'identità diciamo classica giudaico cristiana l'Occidente non sarebbe quello che è perché l'Occidente è una appartenenza non è una semplice organizzazione è una appartenenza è un sistema di valori del quale noi facciamo parte e faremo sempre parte per destino non per banale scelta politica però sicuramente è quello è il nostro campo di gioco e non vale neanche la pena diciamo doverlo sottolineare però accanto a quel campo di gioco serve il dialogo serve un dialogo che oggi è fondamentale ovviamente il conflitto ucraino è lo spartiacque che scuote in modo estremamente profondo l'architettura delle relazioni l'architettura della sicurezza della difesa noi ovviamente dobbiamo rafforzare l'intesa con i nostri partner con i nostri alleati dobbiamo rinnovare i rapporti con i nostri paesi amici particolarmente credo io nel campo del Mediterraneo ma non solo nel campo del Mediterraneo ma dobbiamo anche saper impostare soprattutto secondo i nostri interessi le relazioni con tutti gli altri occorre che l'Europa diventi sempre di più un attore globale consapevole di qualcosa di cui non sempre è stata consapevole e cioè che quando tu lasci vuoto uno spazio qualcun altro occuperà quello spazio noi lo abbiamo visto benissimo vicinissimo da noi lo abbiamo visto in Africa molto bene quando l'Europa indietreggiato quando l'Italia per scelta o per diciamo così costrizione ok è indietreggiata qualcun altro è avanzato oggi siamo noi a pagare ovviamente le conseguenze di quelle scelte occorre che l'Italia sia consapevole del ruolo strategico che può svolgere in questa fase ovviamente d'accordo con i suoi partner era ed è fondamentale la chiarezza la fermezza con la quale l'Italia si è schierata nel conflitto ucraino fin dall'inizio senza tentennamenti ovviamente per quello che riguarda il conflitto ucraino anche qui abbastanza banale dirlo la stella polare del nostro impegno rimane la ricerca del dialogo la cessazione delle ostilità a cui dovrà seguire la definizione di una pace giusta per gli ucraini ovviamente io sento moltissimo parlare di pace pace tema sembra a me un po più complesso di come mi pare lo legano altri ecco non sono mai stata convinta che fosse sufficiente così dichiarare pace per ottenerla io penso che da che mondo è mondo e per questo sono convinta che anche ai fini della pace nel conflitto ucraina ucraino sia stato importante il ruolo che ha giocato l'Italia penso da che mondo è mondo se vuoi costringere due attori in campo a sedersi a un tavolo delle trattative la prima regola deve essere che c'è equilibrio tra le forze in campo altrimenti non avrai pace avrai un'invasione e un'invasione non è mai pace per come la vedo io e quindi credo che per questo sia stato importante il ruolo che la comunità internazionale e l'Italia ha giocato e sta giocando nel conflitto ucraino credo che nessuno si aspettasse al tempo che gli ucraini avrebbero resistito così voglio dirlo in questi giorni perché vedete questi sono i giorni nei quali in tutto il mondo si celebra la luce il natale la nuca ebraico il sostizio d'inverno in tutte le culture questo è il momento della vittoria della luce sulle tenebre e pensate all'ucraina pensate a gente che in questi giorni vive la quasi totalità della sua giornata senza energia elettrica di alcun genere e per capire cosa sia la realtà degli ucraini beh io chiederei a tutti gli italiani di spegnere un'ora al giorno tutta l'elettricità di cui dispongono e vedere come si sta per capire che cosa significhi avere persone che difendono la loro libertà e il loro amor di patria perché questo si capisce soprattutto quando ci si misura con il sacrificio ovviamente però dicevo noi lavoriamo perché e faremo quello che possiamo fare per arrivare a una soluzione del conflitto però la verità è che tra la crisi pandemica e il conflitto in ucraina noi ci siamo resi conto di molte cose ci siamo ad esempio resi conto delle nostre troppe dipendenze dell'errore strategico che avevamo fatto in termini di sovranità rinunciando ad alcune catene fondamentali del valore ci siamo accorti della nostra dipendenza energetica dalla russia quella che oggi vediamo di più quella che impatta di più ma probabilmente ci accorgiamo anche della nostra eccessiva dipendenza in termini in termini di sicurezza dagli stati uniti e ci accorgiamo di come non sarebbe intelligente nel momento in cui cerchiamo di uscire dalla nostra dipendenza energetica dalla russia diciamo favorire una maggiore dipendenza economica per esempio dalla cina altro errore che si rischia di fare io sono stata e sono ovviamente favorevole alla transizione ecologica ma in altri tempi fin da altri tempi diciamo e continuo a farlo non ho avuto timore a dire che se tu vuoi perseguire una transizione fondamentale devi preoccuparti di essere tecnologicamente all'altezza di governare il processo perché non è intelligente passare dalla dipendenza da gas alla russia dalla dipendenza energetica nei confronti della russia alla dipendenza elettrica nei confronti della cina è intelligente se decidi di fare una transizione producendo incentivando le tecnologie che sono fondamentali a governare quella transizione oggi una grande sfida che l'europa ha noi abbiamo pagato diverse di queste dipendenze lo abbiamo visto lo abbiamo visto lo vediamo oggi per carità con l'energia lo vedevamo ieri durante la pandemia con i chip perché quando alcuni hanno privilegiato il mercato interno perché c'era la pandemia noi ci siamo trovati con inter catene del valore ferme e lo vediamo su molti fronti queste dipendenze il tema oggi delle dipendenze di combattere la nostra eccessiva dipendenza è secondo me una grande materia strategica sulla quale il ruolo della diplomazia il ruolo degli ambasciatori è ovviamente fondamentale la dipendenza energetica dicevo è oggi la più visibile l'italia è reduce in europa da una significativa vittoria che quella sul tetto al prezzo del gas vittoria che molti davano per insomma difficile da ottenere ci abbiamo creduto ci abbiamo creduto attraverso i governi voglio dire anche questo la battaglia è stata iniziata il governo precedente ha fatto un ottimo lavoro presidente draghi dal ministro cingolani l'abbiamo portata avanti noi l'ho portata avanti sicuramente io ministro pichetto fratin un'italia decisa un'italia che non ha cambiato linea che ha continuato a portare avanti la difesa del suo interesse ha portato a casa il risultato è riuscita a diciamo essere tra i capofila se non la capofila di una battaglia nella quale noi abbiamo costruito una maggioranza che ci ha consentito di portare a casa questo risultato che era ed è un risultato fondamentale per mettere a freno la speculazione in un momento nel quale voi capite che perché per chi governa una nazione come me come noi liberare 30 miliardi di euro e metterli interamente sulle bollette cioè regalarli alla speculazione mentre tu hai le famiglie e le imprese in estrema difficoltà è qualcosa che vi garantisco fa male fa male era una battaglia che andava combattuta è una battaglia che abbiamo vinto che chiaramente non risolve il tema della dell'energia sul lungo periodo quello che può risolvere affrontare seriamente la materia energetica sul lungo periodo è il mix è la diversificazione è la sfida di tornare a produrre energia intanto a 360 gradi e di diversificare le forme di energia e le fonti di approvvigionamento in questo ovviamente il ruolo della diplomazia è un ruolo che diventa centrale anche perché voi sapete che io immagino sappiate che io e noi abbiamo un po un pallino e cioè che nella tragedia di questa situazione energetica si apre per l'italia una grandissima occasione come sempre noi italiani in questo siamo unici al mondo è come sappiamo tirare fuori noi le occasioni dalle difficoltà è uno dei dei nostri grandi tratti distintivi ma oggi è così perché ovviamente chiunque guardi diciamo una cartina geografica e conosca un po di quali che di quali sono diciamo le opportunità generati dalle generate anche dalle nazioni che ci sono intorno dal mediterraneo voi capite che noi con un po di diplomazia fatta bene con un po di risorse fatte bene con un po di strategia con un po di dedizione potremmo arrivare tra non molto ad essere diciamo così il lo snodo di approvvigionamento energetico dell'intera europa guardiamoci intorno i gasdotti del mediterraneo orientale arrivano in italia abbiamo chiuso qualche giorno fa un accordo sono stati liberati 300 milioni di investimento per collegare elettricamente l'italia con la tunisia voi avete visto che io mi sono spesa moltissimo con i paesi soprattutto del del campo mediterraneo del nord africa chiaramente per loro riuscire a investire sulla energia di nuova tecnologia vuol dire ricchezza vuol dire sviluppo vuol dire tecnologia vuol dire ovviamente relazioni internazionali sono tutti molto disponibili noi siamo forse diciamo tra le nazioni europee quella particolarmente nel nostro mezzogiorno che può più agevolmente produrre energie rinnovabili mediamente un pannello fotovoltaico installato da noi produce il 30 per cento di energia in più rispetto a quello che accade nel nord europa se mettiamo insieme tutto questo e lo facciamo con intelligenza per noi può diventare una grande occasione e può diventare un'occasione anche per realizzare quel piano mattei per l'africa sul quale vorremmo portare l'intera unione europea cioè un modello di cooperazione con i paesi africani che non sia predatorio come spesso è accaduto in africa ma che sia un modello nel quale e in questo noi siamo bravi quando noi arriviamo lasciamo qualcosa lasciamo sviluppo lasciamo capacità di crescere da soli no ci sono quelli che quando manca l'acqua qualcuno portano le bottiglie d'acqua e ci sono quelli che portano i desalinatori sono due modelli di cooperazione completamente diversi uno ti tiene legato l'altro ti libera noi abbiamo fatto sempre del nostro meglio perché le nazioni con le quali cooperavamo potessero trovarsi il giorno dopo più libere più tecnologicamente avanzate più capaci di rispondere alle loro esigenze dobbiamo farlo ancora di più dobbiamo farlo ancora meglio e questa è una grande occasione e ovviamente non potremmo pensare neanche lontanamente di fare una cosa del genere se non potessimo contare sulla vostra capacità di diciamo così segnalare riportare costruire ovviamente tutto il lavoro che serve per portare a casa questi risultati poi dicevamo il tema della sicurezza oggi è ovviamente molto più chiara la necessità di rafforzare l'europa nella sua autonomia strategica per questo occorre anche consapevolezza ovviamente dell'ordine di grandezza degli investimenti necessari ve lo dice qualcuno che non aveva diciamo dall'opposizione paura scrivere nel proprio programma che la spesa militare è una spesa necessaria per difendere i propri interessi nazionali banalmente perché se tu scegli di non difenderti e di chiedere a qualcun altro di farlo quel qualcun altro non lo fa gratis se vuoi essere libero di fare le tue scelte nei tuoi accordi ovviamente nel tuo sistema di alleanza nel rispetto degli altri ma se vuoi centrare anche sui tuoi interessi il lavoro beh devi essere più possibile autonomo questo oggi riguarda soprattutto il tema ovviamente europeo l'europa si è trovata trovata indietro su questa dinamica oggi cerca di recuperare è buona cosa che recuperi l'obiettivo deve essere un pilastro europeo della nato complementare non ovviamente conflittuale complementare con quello fornito dagli stati uniti e oggi c'è molta con più consapevolezza su questo di quanta non ce ne fosse ieri poi c'è la sfida economica dicevamo dicevamo di quanto insomma la russia deve insegnarci io penso che ovviamente anche qui la sfida non possa prescindere da rendere le nostre imprese più resilienti più competitivi più competitive è stato oggetto questo di un lungo dibattito nella ultima riunione del consiglio europeo l'europa sembra sempre arrivare un po giocare di rimessa nel senso ci si interrogava sull'inflation redaction act americano cioè su un provvedimento di sviluppo di investimenti che chiaramente rischia di creare dei dislivelli delle spereguazioni con le aziende europee ma anche questo deve essere di insegnamento non bisogna porsi questi problemi solamente quando gli altri fanno qualcosa che può metterci in difficoltà bisogna a monte ragionare noi di come si possa rimanere competitivi indipendentemente da come gli altri muoveranno e su questo sicuramente c'è un grande lavoro da fare ma mi pare che il fatto già che si parli molti molto di più oggi di queste materie piuttosto che di questioni a mio avviso meno significative delle quali magari si è discusso in passato secondo me è una presa di coscienza fondamentale ed è una buona notizia sulla quale ovviamente l'italia deve fare la sua parte noi abbiamo ovviamente ripetito al consiglio europeo che siamo pronti a sostenere qualsiasi iniziativa che l'europa voglia portare avanti con l'obiettivo di difendere il potere d'acquisto delle nostre famiglie la competitività delle nostre imprese in questo ovviamente noi possiamo anche insomma lavorare come italia perché come italia da questo punto di vista noi abbiamo molto da dire dobbiamo continuare a diversificare i nostri mercati di sbocco ai nostri mercati di approvvigionamento e dobbiamo imparare a ragionare molto di più da sistema paese molto di più come fossimo una cosa sola indipendentemente dal ruolo che ricopriamo l'azione di diplomazia economica col sostegno della rete diplomatico consolare è cruciale quando si muove un'azienda si sta muovendo l'italia deve essere accompagnata deve essere sostenuta chiaramente dando priorità a quello che per noi è strategico perché un'altra cosa che spesso è mancata è una strategia industriale una strategia di sviluppo priorità sulle quali noi investiamo che cosa è l'italia nel mercato della globalizzazione dove fa dove fa la differenza l'italia nel mercato della globalizzazione ma chi risponde a questa chiamata ci stiamo muovendo tutti e questo io credo che possa anche fare la differenza perché vedete noi siamo tutte persone da chi fa politica da chi sta al governo fino ovviamente a tutti voi insomma gli ambasciatori capi di capi di capi missione i funzionari i militari siamo tutte persone lo dicevamo in apertura che hanno scelto di servire questa nazione il nostro amore nei confronti di questa nazione non è in discussione del resto l'italia insomma con tutti i suoi limiti è una nazione nonostante tutto molto facile da amare ecco io penso che dobbiamo essere bravi anche noi a trasferire quell'amore perché c'è un sacco di gente che se lo legge e se lo trova vuole ricambiare anche di italiani magari più disillusi di noi di italiani che magari vanno da qualche parte semplicemente per cercare uno sbocco per se stessi non anche per la propria nazione far capire che può essere fatto per tutti e può essere fatto molto meglio se viene fatto per tutti fare sistema questo io ho trovato tante volte che mancasse e mi piacerebbe che insieme lavorassimo per dare questo segnale veniva detto correttamente correttamente c'è grandissima voglia di italia e io mi sono ritrovata al vertice ai balcani occidentali a tirana in una piazza che si chiamava piazza italia e in uno stadio che era stato progettato da un italiano quasi tutti parlavano italiano e per paradosso erano colpiti di come nazioni più distanti da quelle mostrassero quasi maggiore no così insomma maggiore volontà di esserci con un atteggiamento probabilmente diverso dal nostro ma loro è l'italia che vogliono e non solo nei balcani occidentali che per carità sono i nostri dirimpettai anche un fatto geografico no parlavamo senza citare diciamo la nazione con uno stato africano con il presidente uno stato africano e ci diceva perché qui non qui da noi non avete un'ambasciata perché voi da noi non avete un'ambasciata l'assenza italiana si sente ora qui la responsabilità è la nostra cioè il tema che torna delle risorse degli strumenti delle disponibilità non pensate non pensiate diciamo che non sia consapevole del fatto che a parità di nazione le risorse umane risorse proprio economiche strumenti che noi mettiamo a disposizione diciamo della nostra rete diplomatica non sono paragonabili a quelli che gli altri mettono a disposizione noi ci salviamo ma veramente non lo dico per piageria perché la qualità della nostra diplomazia è una qualità diciamo che nulla decisamente ha da invidiare a quelle di tutti gli altri il tema c'è io non vengo qui a fare promesse che non diciamo così che che poi magari non posso mantenere sono persona abituata a dire le cose prima di promettere mi piace farle prima di prometterle e poi dire l'ho fatto però posso dirvi che sicuramente è un tema che ho presente che abbiamo presente tutti che su questo bisogna fare uno sforzo in più banalmente non perché ci interessa perché appunto oggi siamo alla conferenza degli ambasciatori e quindi facciamo contenti gli ambasciatori no perché è un investimento è una cosa diversa torna e torna con una ricchezza maggiore di quella che si spende quindi se c'è uno sforzo che possiamo riuscire a fare state sereni che lo faremo così come intendiamo agire sul fronte burocratico perché anche lì si può lavorare quello si può fare molto anche a costo zero insomma delle volte noi partiamo per primi arriviamo per ultimi con i potenti mezzi della burocrazia italiana vogliamo rafforzare le nostre funzioni consolari di cui dovete essere fieri ci sono sicuramente tante cose da fare la politica prima di tutto deve fare la loro parte la sua parte io intendo ovviamente noi intendiamo fare la nostra in tutti i contesti nei quali l'italia è parte integrante intende far sentire la sua voce senza arroganza con spirito costruttivo ma con la consapevolezza che non sempre io ho letto di ciò che noi rappresentiamo di quale la nostra forza reale di quale la percezione che gli altri hanno della nostra forza reale noi possiamo fare la differenza penso che lo abbiamo dimostrato appunto come dicevamo in europa sul tema del tetto al prezzo del gas così come sul tema della tassazione minima per le multinazionali senza il ruolo che ha giocato con garbo l'italia probabilmente non si sarebbe sbloccato l'accordo sulla tassa minima per le multinazionali dovremo fare la stessa cosa nel futuro nel 2023 parlo sempre di ambito europeo in questo caso su dossier molto importanti penso alla riforma del patto di stabilità e crescita finora un po più stabilità un po meno crescita vorremmo che fosse un po più pure crescita che potrebbe fare la differenza sulla vicenda migratoria altra grande questione che aprirà il nuovo anno del consiglio europeo noi abbiamo chiesto che fosse posto come tema centrale della prossima riunione del consiglio europeo e così è stato ed è grazie alla posizione italiana se oggi la commissione europea per la prima volta dichiara la rotta del mediterraneo centrale una priorità anche qui serve un approccio serio costruttivo ma serio che sappia distinguere cose diverse come il tema dei profughi e il tema dell'immigrazione illegale che sappia chiedere rispetto vero del diritto internazionale a partire dal tema del salvataggio in mare che è stato diciamo letto in una modo a mio avviso errato per diverso tempo che sappia porre il tema della difesa dei confini esterni dell'unione europea e che sappia utilizzare diversamente le risorse della cooperazione internazionale perché credo che le risorse della cooperazione internazionale da questo punto di vista possano giocare un ruolo fondamentale nella responsabilizzazione delle nazioni di transito e di partenza ma sicuramente è un'altra questione sulla quale l'italia intende diciamo porre la sua visione ovviamente non è solo materia europea abbiamo parlato di africa del piano mattei io credo che siano strategiche in questa fase anche l'indo pacifico così come l'america latina realtà diciamo che per ragioni diverse possono offrire in questa stagione in questa fase grandi opportunità intendo occuparmene anche personalmente ovviamente sempre insieme al ministro tagliani nei prossimi mesi noi ci dobbiamo preparare alla presidenza nel 2024 del g7 e credo che un ruolo di rapporto fondamentale lo si debba tenere con le nazioni del g20 proprio per combattere quello che dicevamo essere noi racconto del dell'occidente contro il resto del mondo la presidenza indiana del g20 ragiona molto di dialogo con i paesi del sud del mondo io credo che sia un approccio corretto e credo che preparandoci alla presidenza del g7 anche noi possiamo aiutare diciamo a combattere questo racconto interessato ovviamente dei nostri avversari cercando sempre più convergenze e sempre maggiore dialogo con nazioni che possono diciamo condividere molte cose con noi pur nel rispetto ovviamente delle delle diversità quindi e chiudo perché non voglio tediarvi ulteriormente lavoro è un lavoro immane quello che insomma io ho cercato di riassumere di tratteggiare ci sarebbero moltissime altre cose da dire è un lavoro che siamo attrezzati a fare con tutte le nostre mancanze appunto magari di risorse di disponibilità ma siamo attrezzati a farlo siamo attrezzati forse nessuno è attrezzato a fare questo lavoro come lo siamo noi in termini di risorse umane e noi faremo del nostro meglio anche per aggiungere risorse non umane nel senso strumentali soprattutto e quelle umane pure comunque se vengono aggiunte non fanno mai male però sicuramente è un lavoro che non si potrebbe fare senza la vostra dedizione senza la vostra capacità senza la vostra competenza professionalità sono anche sfide delle volte lo sappiamo rischiose e voglio ricordare anche io l'ambasciatore Luca Attanasio così come voglio mandare un abbraccio a Susanna Schlein che è stata come voi sapete vittima di un oggetto di un attentato di matrice anarchica è la dimostrazione di come facendo il lavoro che fate voi insomma i rischi che si corrono sono anche tangibili e insieme ovviamente a tutta la diplomazia non dobbiamo dimenticare gli uomini e le donne in divisa che ci accompagnano sia a livello diplomatico che ci accompagnano su tanti terreni difficili in giro per il mondo io sono in partenza stasera per l'Iraq dove insieme al ministro Tajani al ministro Crosetto abbiamo deciso di recarci non solo in Iraq ma in altri luoghi nei quali i nostri militari sono impegnati nelle missioni di pace per portare loro gli auguri di Natale in Iraq voi sapete l'Iraq è una delle missioni in cui l'Italia comanda appunto il contingente Nato e abbiamo pensato che fosse un bel segnale ma che in realtà vuole dire grazie a tutti coloro che passano Natale fuori dalle loro case per fare il loro lavoro e per rappresentare questa nazione e quindi anche tanti altri come voi tanti diplomatici tanti funzionali d'ambasciata tanti uomini tante donne che pur trovandosi molto spesso quasi sempre fuori dai loro confini nazionali riescono ad amare questa nazione come spesso si riesce ad amare questa nazione solo quando non la si vive tutti i giorni grazie Grazie.